ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio all'interno del negozio eccoci qua siamo all'interno della gioielleria pasquale domenici di viareggio il cui titolare è l'amico giacomo saluta vedi giacomo che parte un ufficiale del canale ci ritroviamo qui tutti insieme e felicemente per fare le domande risposte no la classica puntatina qui interagiamo con gli amici del canale e oggi abbiamo due ospiti abbiamo due ospiti come due uno è l'ospite abbiamo due ospiti perché anche piero è un ospite uno è lì è leggiadro oggi c'è domani non c'è non si sa piero che leggerà le domande che come amici come le legge lui non legge nessuno proprio veramente un'arte un'arte e poi abbiamo l'amico fabio che viene direttamente da venezia è abbonato al canale quindi l'abbiamo contattato ecco perché l'hai fatto venire perché è abbonato non me l'avevi detta questa no io ho ancora capito no piero tu lo sai che gli abbonamenti la gente parla certo e quelli che vengono sono tutti abbonati un euro che ha riservato gli abbonati c'è un minimo di vantaggi che vogliamo dare no va bene dai io direi di iniziare la scalata no piero inizio già l'arrampicata con l'arrampicato questo è facile dura tanto tanto facciamo il buon anno a tutti ma già la prima puntata che ci troviamo insieme era prima del 2014 2014 auguri a tutti allora armando ciao potreste parlare della cura barra pulizia degli orologi allora la pulizia degli orologi lo pulite come vi pare a voi praticamente nel senso che se l'orologio è impermeabile almeno 50 metri io i 50 metri li ho lavati un getto di acqua tiepida ma un getto non potente un getto di acqua tiepida e sapone neutro e lo potete lavare chiaramente io metto anche la mano a riparare l'orologio dal getto in modo che si bagni ma senza il getto diretto una precauzione più con sapone neutro e si pulisce il bracciale l'ideale sarebbe lavarlo dentro una lavatrice a ultrasuoni smonti il bracciale lo metti nella lavatrice a ultrasuoni che è un affarino così che vendono a 15 euro con i chanticleer dentro due o tre lavaggi e bracciale viene pulito 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 quelli che non sono impermeabili insomma un po di un po di fantasia ci sono anche quegli spray per il vetro anche per pulire gli occhiali io utilizzi quelli un panno e poi lucidi l'orologio nei punti più strì difficili con un cotton fioc vai a pulirlo insomma poi cinturini di perle invece hanno tutta la loro casistica nel senso che si pulisce come la pelle ci sono dei prodotti adatti ma chi li pulisce di cinturini in pelle finché non marciscono no che caso vorrei c'è una frica specifichiamo se avete comprato o comprerete la macchina ad ultrasuoni non inserite la cassa all'interno perché potrebbero potrebbe poi creare dei danni all'orologio altra cosa quando rimuovete il bracciale spesso trovate dei residui dove ovviamente c'era l'attaccatura dove non batte ovviamente il sole tra la cassa e il bracciale alla se sono incrostazioni abbastanza dure da rimuovere potete usare anche un piccolo palettino di legno li create una punta anche se volete quello che ha un fiammifero create la punta e usate il legno perché il legno non graffia il metallo poi anche su quella parte lì sull'incavo del lanza potete andare ovviamente con uno spazzolino acqua tiepida sapone il solito procedimento che fareste con il bracciale si anche uno stuzzicadenti perché il legno non graffia le parti in metallo se usate degli strumenti in metallo rigate tutto e dopo sono sono problemi carlo super carlo che senso ha acquistare un orologio che monta un sv200 a più di 2000 euro oppure più generalmente un quarzo tagoyer ad esempio a quel prezzo non si è capito che interpretazione la spiegherà tu la spiegherà tu che senso non ha nessun senso il senso glielo deve dare il soggetto personalmente cioè cosa ha senso per te perché se io prendo un 6.5 da 300 euro di vestito apro la porta vado fuori il primo signore che passa gli dico questo orologio costa 300 euro questo mi sputa in un occhio se non è un appassionato mi sputa in un occhio dice ma cosa ne frega ma io vado la decinesi con 50 euro 20 euro mi compro un orologio no è questo il ragionamento ognuno dà il senso perché altrimenti non avrebbe senso neppure comprare orologi da 10 mila euro ma cosa li compriamo a fare gli orologi 10 mila euro ognuno deve dare un senso alla propria passione decidere cosa comprare un sellita sv200 questo qua ecco io c'ho il cronomat eccolo qua c'ho il cronomat che dentro c'è un netta 28 93 costa 5.800 ha senso per me ha senso per altri non ha senso quindi ognuno pensi ai sensi suoi diciamo così no allora intanto intanto c'è un il prodotto orologio può essere valutato sotto sotto tante forme c'è la parte tecnica che ovviamente è la meccanica e si sellita eta sono quelli ovviamente più comuni poi ci sono tutte le manifatture calibri proprietari e via dicendo però ovviamente si può comprare anche un orologio per la marca cioè per la storicità della marca o ovviamente solo per l'estetica l'estetica non è da sottovalutare diciamo che in quel segmento che va dai 1000 ai 3000 euro l'ho preso anche abbastanza largo ma purtroppo è così e le grosse differenze nel prodotto se le gioca proprio l'involucro esterno come è realizzato come è rifinito il tipo di vetro le finiture le satinature c'è tutta una serie ovviamente di dettagli che vanno a formare il prezzo dentro questa fascia dei 3000 euro difficilmente possiamo uscire da quelli che sono i calibri sellita poi sv200 sv300 per chi vuole aggiungere qualcosa in più con certificazione cost che con senza certificazione cost che tutti lieta però ecco diciamo all'incirca questo è il grosso che copre l'orologeria poi ci sono piccole marche che si distinguono dove dentro in questo range di spesa offrono anche dei calibri proprietari poi anche lì potremmo aprire un'altra discussione che questa fase qui è troppo lunga da analizzare comunque sia potendo spendere di più potendo accedere a fasce prezzo superiori ovviamente possiamo anche fare una selezione per quanto riguarda il calibro e sì che sotto dobbiamo fare altri tipi di analisi non soffermarsi solo al tipo di calibro in questo caso abbiamo citato l'SV200 che tra l'altro è un'ottima meccanica e molto affidabile scusa fabio no l'amico amico fabio per esempio prima mi dicevi che te hai il doxa 600 t si è il doxa 600 t c'è al calibro sv200 e quanto l'hai pagato? l'ho pagato 1600 euro ecco quindi ti hai speso 1600 euro per un e sei contento no? bellissimo quindi ognuno fa le sue valutazioni perché se no uno dice 1600 euro ci vado a prendere chissà cosa siamo lì allora Gianni da Berceto Berceto è vicino da noi? Berceto è sulla Cisa ciao ragazzi è disponibile nel negozio la versione Zulu Time per Odinchi complimenti a Piero per il fascino che trasmette grazie Gianni da Berceto si è disponibile la facciamo vedere non si può far vedere è la che fa così per chi la volesse c'è eccola qui ah ce l'ha ce l'ha perché non si può far vedere è perché è per Odinchi io capito se no da per Pasquali quando uno paga poi diventa per lui è Odinchi Odinchi se pagano diventa è arrivato chiaro chi è Odinchi è un gigantesco portale di orologi che fa giornalismo di orologi anche vendita credo ah vabbè passiamo c'è lui ti ha chiesto se c'è qua sì questa qua è Gianni hai fatto i complimenti a me però è un'edizione limitata per Odinchi dello Zulu Time è particolare invece di avere la ghiera colorata ce l'hai in un altro modo no vedi c'è anche la sfera qua di un altro colore sembra quasi che non si può dire è un segreto è un segreto non si può farlo tu hai capito no? te lo ti piace? sì 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 ok comunque ricordiamo che a differenza ovviamente degli Zulu standard quelli che trovate ovviamente in tutti i negozi la versione in tiratura è totalmente in titanio e la ghiera non presenta l'inserto in ceramica ma è full titanio anche quella sì che ecco le differenze sostanziali sono quelle alla fine avrete un orologio molto leggero con quella che è un'estetica leggermente diversa da quelle che hanno tutti se volete un prodotto un pochino più ricercato questo potrebbe fare al caso vostro ovviamente sia per la tiratura sia ovviamente per il titanio costa qualcosa in più rispetto allo Zulu standard allora Aiei e Brazov come scusate? Aiei e Brazov ma ci sta prendendo giro no no l'ha sceduta perché non la sapeva leggere allora domanda specifica per Davide hai mai pensato di fondare un tuo micro brand in cui creare i tuoi orologi? secondo me faresti bingo grazie e continuate così siete forti e soprattutto l'amico Piero ma ve ne inventate quelle cose lì? no no la prima l'ho inventato le posso rispondere io non lo fa perché se deve fare le cacate come fanno tutti gli altri youtuber non lo faccio perché non sarei in grado invece di farlo come lo fanno gli altri ecco diciamo la verità poco non ce lo voglio non mi interessa per niente zero poco zero sto bene così ma che mica me ne frega di fare i orologi ma sei proprio bugiardo ma sei proprio bugiardo no non lo farò mai in realtà in cantiere ce n'è uno uno swatch bellissimo denuncia domattina taglialo altra domanda da Dennis complimenti al Magico Trio se disponibile potete far vedere lo Zulu Time acciaio oro sembra fantastico in foto grazie mille appella eccolo qua ce l'abbiamo sì veramente bello questa è la versione ovviamente a 39 39 acciaio oro praticamente guardavo prima le finiture sul titanio della versione per Odinchi ma anche questo qua che è in acciaio le finiture sono le stesse sono riusciti a fare sia in titanio che sull'acciaio le finiture veramente di primordine sì qui ovviamente c'è il valore aggiunto della base della ghiera in oro 18 carati è una versione un po' diciamo lusso è proprio in oro in oro sì sì è proprio oro non è una laminatura è un pochino più costosa ovviamente rispetto all'altro però l'orologio il risultato finale è che rimane molto più elegante dall'altro se guardi anche il colore proprio della base del quadrante è diverso è un color caffè sì bello molto bello esiste sia la versione da 42 che da 39 39 eccolo questo qua è da 39 allora già Marco Facciolini ciao Davide Giacomo e il grande Piero domanda per tutti e tre con un budget di 2000 euro preferireste acquistare un King Seiko o un Rado Golden Horse e perché? grazie ragazzi con il vostro canale non si smette mai di imparare vi stimo tanto soprattutto Piero love ma voi ve ne inventate no no ora scusate un secondo la domanda per tutti e tre Piero King Seiko e Rado Golden Horse che cavolo ne sa Piero cosa sono questi ronori allora allora a parte gli scherzi che hai detto? ce l'abbiamo qua ce l'abbiamo no no non ce l'abbiamo 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 più che altro perché Rado Golden Horse ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo io punterei su King Seiko mi piace molto mi piace molto la versione del King Seiko quella con il bracciale che non segue la cassa che sembra dritto che gli per lì sembra brutto mi piace di più perché è molto più spigoloso e riprende le spigolature della cassa che è la versione da 39 39 forse sì mentre la versione precedente quella che ha l'inserto integrato è da 37 sì ma diciamo che gli orologi qualitativamente si equivalgono è solo una questione estetica sono due orologi che si rifanno ovviamente a un periodo passato il Golden Horse ha una linea un pochino più sinuosa un pochino più rotondeggiante caratterizzato ovviamente dal classico chicco di riso la maglia chicco di riso centrale e se vogliamo il King Seiko è un pochino più spigoloso come tipo di forma sicché ecco diciamo non c'è una preferenza a livello tecnico diventa solo una preferenza a livello estetico vai a tuo gusto quello che ti suscita più emozioni Nicola su Instagram ho visto la nuova colorazione dell'Hidro Conquest GMT è possibile vederla al polso? grazie Mitici ce l'abbiamo sì eccolo qua l'Hidro Conquest GMT con questa nuova colorazione che è come oddio mi verrebbe da dire occhio di tigre nel senso che è quel marrone gold brown tobacco più ne ha più ne metta ti piace come è la descrizione per tobacco tobacco eccolo qua con la ghiera marrone scura anche questo eccolo qua questa qua è la nuova colorazione dell'Hidro Conquest GMT bellissimo che poi tutti dicono ma faranno anche l'Hidro Conquest normale con questa configurazione qua e non si sa non si sa no col bracciale sicuramente sì con la configurazione del quadrante nì perché l'allongina è sempre nel dubbio se mantenere la numerazione classica ovviamente dell'Hidro Conquest è la numerazione araba oppure mettere gli indici va bene ti abbiamo fatto vedere sei contento? Daniele buonasera a tutti una curiosità volevo chiedere al buon Giacomo come vengono gestiti gli orologi che rimangono invenduti per tanto tempo rimangono come fondo di magazzino? E se il quantitativo è alto? Grazie siete dei grandi Daniele da San Giorgio di Nogaro no solitamente cerchiamo di gestire le rimanenze di magazzino in modo che non ce ne sia mai tante anche perché ovviamente già in fase di acquisto sulle novità sappiamo quale quale può piacere di più o di meno al pubblico che quale sarà un orologio di successo oppure no di conseguenza poi andiamo a andiamo a creare dei multipli come acquisti su ovviamente le referenze altovendenti e magari dei singoli su quelle che si vendono meno diciamo che in un ciclo produttivo che è di circa tre anni perché è la vita che rimane in catalogo un orologio solitamente vengono venduti poi logicamente a mano a mano che la referenza invecchia che anche voi da casa perdete interesse su alcuni prodotti cominciamo a rallentare gli acquisti fino ad arrivare ovviamente a magazzino zero è per quello che spesso tanti di voi ci chiamano e di alcuni orologi non trovate la disponibilità immediata perché magari essendo un orologio di non grandissima richiesta preferiamo assortirlo meno ora non è detto che poi quando ci chiamate non trovate l'orologio perché sia un orologio che non viene venduto abbastanza spesso c'è il problema contrario ovvero viene chiesto talmente tanto e venduto talmente tanto che non riusciamo a tenere assortiti i magazzini perché nel mentre che arrivano le finiamo e si innesca ovviamente un ciclo continuo di arrivo e uscita arrivo e uscita e dice perché non ne compi di più proprio per quello che mi hai detto intanto per non fare invecchiare il prodotto in magazzino si crea un problema c'è un momento in cui l'orologio di colpo non crea più interesse perché magari è uscito un orologio che attira di più la vostra attenzione che bisogna sempre cercare di ordinare a piccole quantità per non fare invecchiare il prodotto dentro i nostri magazzini per due motivazioni uno perché è logico un prodotto vecchio poi andrebbe svenduto e penso che sia lì dove volevi arrivare te come domanda e seconda cosa l'orologio che sta troppo fermo nei magazzini o nelle vetrine poi dopo ha un problema perché l'olio si secca va incontro ovviamente a quella che è la manutenzione ordinaria che si cerca sempre di avere una grossa rotazione sui magazzini mi piace perché sei conciso e devo dire molto ora io ti volevo mi permetto di dire questa cosa non so nemmeno se si può dire esiste anche delle situazioni nelle quali il fondo di magazzino puoi renderlo la casa esiste? no noi le orologie compriamo tutti le paghiamo e di conseguenza difficilmente la casa a meno che non sia un'operazione di cambio dove c'è una convenienza comune ci ritirano prodotto la verità è che poi dopo quando il prodotto è fuori dal catalogo arriva ad essere fuori il catalogo ovviamente non è più neanche visibile da parte vostra anche se noi lo continuiamo a mantenere magari sul nostro sito ci conviene magari fare un extra sconto e svenderlo se lo abbiamo fatto più volte con diversi prodotti magari di cui non eravamo più concessionari o magari il prodotto era già fuori catalogo come avete visto le grosse offerte che vi abbiamo fatto sia sulle promo cioè prodotti fuori catalogo già messi da casa madre che noi abbiamo acquistato appositamente per venderli a un prezzo molto molto conveniente oppure tutto quello che è stato venduto durante il black friday non sono altro che rimanenze ma spesso non nostre ma delle case madri sicché prodotto fresco che ovviamente ha stazionato nei loro magazzini totalmente nell'imbolucro non ha mai fatto vetrina sicché diciamo che sulle nostre offerte comprate dei prodotti veramente esclusivi e in tonzi vai piero massimo ciao con briccola degli orologi potreste se possibile mostrare degli orologi unisex massimo 37 38 millimetri vorrei acquistare un orologio che possa condividere con mia moglie grazie siete mitici massimo da fiorenti tutti questi qua sono ma no sono andato un po' io così a random allora questo qua sarebbe l'edox skydiver da 38 no quindi secondo te questo qua sia maschile che femminile no ho voluto prendervi apposta una colorazione che potesse andare bene sia al femminile che al maschile addirittura questo poi viene declinato in bianco in violetto in però possiamo dire che questo qua questo modello qua è sportivo cioè perché le signore poi indossano anche gli orologi sportivi quindi c'è poco da dire non è che uno deve trovare un orologio unisex te ne prendi uno qualsiasi le signore lo indossano questo invece questo brightling qua è leggermente più adatto veramente a tutti e due per quanto riguarda l'edox abbiamo un 38 millimetri non ho preso il classico braccialato acciaio perché volevo una versione che potesse andare bene sia da uomo che da donna e nella versione braccialata è un pochino più maschile mentre questo Navi Time è un 36 millimetri perché non è molto esigente come misure di cassa questo potrebbe adattarsi bene sia a livello femminile che ha un polso maschile non grandissimo si e poi cosa hai scelto anche il classico Jungans ho preso uno Jungans che è un classico questo è un 38 millimetri lo abbiamo anche che è al limite delle misure che mi avete chiesto però esiste anche la versione da 34 che forse si adatta ancora meglio un pochino di più a tutti i polsi 34 secondo me è elegante per l'uomo e ideale per la donna forse da 34 più che da 38 poi hai preso anche questo qua è veramente sportivo per una donna però il fatto che abbia la ghiera tutt'acciaio smorza molto la sportività addirittura ho fatto una scelta nella mia vetrina ho preso un quadrante bianco perché il quadrante bianco dà un pochino meno il senso della sportività rimane un pochino più pulito più classico ecco e questo qua è da 37 se non mi sbaglio si 37 poi ho preso due Oris classici due versioni totalmente diverse come estetica uno è il cotton candy dell'Oris Diver 65 con questo quadrante acqua marina e quello è l'Oris Big Crown con il quadrante celeste veramente celeste degradante il cervo volante il cervo volante con il suo bel cinturino cos'è il cervo volante Piero? l'abbiamo segnato l'altra volta? è il borbolone lo scarabbeo si lo scarabbeo si lo scarabbeo cioè il coleottero il coleottero bravo e niente io pensavo che era il cervo che volava e l'ammazzavano per fare i cinturini sono due orologi ovviamente da 38 mm entrambi con due estetiche totalmente diverse uno braccialato uno cinturinato che è un prodotto ora fra poco uscirà anche la mia recensione del cotton candy seppia cioè quel quadrante nero e la cassa in bronzo a 38 molto bello molto più maschile quello però anche una donna con l'orologio in bronzo non potrebbe essere una buona idea vabbè dai Piero Achille è possibile vedere un confronto al polso tra il Brightling Super Océan eh? il Brightling Super Océan Super Océan Super Océan e il Super Ocean Heritage grazie mitici e auguri di buon anno allora eccoli qua ce l'abbiamo a tutti e due il Super Ocean Heritage che è qua sulla mia destra e Super Ocean standard che è questo qua sulla mia sinistra te li vuoi vedere al polso eh? uno nero si vede anche un pochino peggio sul sì intanto ho preso per avere due prodotti analoghi due cinturinati due cinturinati in gomma e ovviamente colorazioni diverse uno è un verde uno è un nero la particolarità è che il Super Ocean semplice è un 44 mm 44 mm guardiamo come sta 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 bene nonostante 44 mm è un orologio questo qua da sportivo sì il quadrante è su due livelli sicché ecco veramente particolare come tipologia la ghiera ceramica guardiamo come sta l'heritage ragazzi che è un pochino di solito l'heritage lo vediamo con il cinturino in maglia milanese bracciale in maglia milanese stavolta invece ce l'abbiamo in questa maglia milanese finta è caociu sì allora è stata scelta l'opzione maglia milano per ovviamente dare un aspetto un pochino più vintage essendo su un Super Ocean Heritage la verità è che la maglia milano lo rende molto lucidone e va un pochino a contrasto con la sua natura di diver con la gomma forse li rende un pochino più giustizia come vedi qui il quadrante è su un livello solo piatto a differenza dell'altro tra l'altro un monocromo invece laggiù questo è un 42 volevo anche sottolineare forse si vede meglio nell'immagine di prima quando li hai confrontati che proprio per la differenza di cassa di conformazione di cassa che hanno pur essendo un 42 un 44 sembrano quasi uguali perché questo qua il quadrante sembra più piccolo cioè il verde intanto il quadrante sembra un pochino più piccolo e poi il Super Ocean Heritage ha le anze molto allungate sul polso a differenza del Super Ocean normale è vero anche quello va a definire diversamente i confini della cassa insomma scegli te perché sono belli tutti e due ragazzi belli Andrea se nella gioielleria Pasquali Domenici c'è un orologio per possi piccoli massimo 39 mm di diametro con fondello chiuso liscio per un'incisione o se ve ne viene in mente qualcuno grazie di tutto per i contenuti che portate Piero numero uno bravo Piero numero uno ovviamente la tagliamo no questa è veramente una domanda nella quale cioè una volta la maggior parte degli orologi avevano il fondello liscio senza nessuna lavorazione adesso si fa fatica a trovarne uno perché tutti vogliono fare o sono a vista quel calibro o se no vogliono fare la lavorazione perché se te in una recensione trovi un fondello liscio incominci a dire un punto debole il fondello liscio invece potrebbe essere un punto positivo perché pensiamoci un po' la maggior parte degli orologi non ce l'ha liscio questo ce l'ha liscio però comunque sia un'incisione ce la facciamo poi l'altro giorno mi ha chiamato un cliente che salutiamo da casa ha fatto no volevo fare un'incisione molto piccola solo 6 parole su un orologio 6 parole equivale a un tema si ad esempio questo qua è il Max Bill e dietro c'è la firma dell'architetto Max Bill la vedete quella qua il problema è che gli orologi se oggi giriamo un orologio e lo troviamo totalmente liscio senza marchi di fabbrica senza no magari diciamo una copia una copia è fatto male si vedevano negli anni 60 così devi trovare qualcosa come questo qua c'è Max Bill però lo spazio per scrivere qualcosa qua ci sarebbe qualcosa iniziale un nome poi quando uno deve fare una dedica dietro cioè deve essere anche abbastanza coinciso smart da trovare qualcosa che sia riconoscibile senza magari che gli altri lo sappiano c'è un paio di lettere che vogliono dire qualcosa un simbolo piuttosto che ah il mio caro figliolo che ha preso la laurea il giorno 14 no è minchia a noi le incisioni le facciamo a laser sicché riusciamo a incidere quasi tutti i tipi a cui fate le incisioni si facciamo le incisioni se avete bisogno potete chiedere ovviamente è un servizio extra che vi offriamo facciamo le incisioni a laser sicché possiamo scrivere qualsiasi tipo di parola con qualsiasi carattere corsivo stampatello quello che volete addirittura se però ovviamente dovete avere un logo in jpeg o in un formato comunque sia fatto da un professionista possiamo anche incidirvi un logo di far un vostro logo quello che volete vai Carlo super Carlo perché questa scarsa attenzione a microband anche italiani che iniziano a costruire buoni orologi non c'è non c'è nessuna scarsa attenzione io parlo adesso per me no io ho il canale youtube sui canali youtube italiani voi non fate altro che vedere recensioni di microband che sciorinano orologi a destra e a sinistra cioè magari lascio un modello 10 video dello stesso modello li trovate in una settimana quindi l'attenzione non è bassa io scelgo i microbrand da recensire col contagocce nel senso mi devono proprio interessare uno e non devono essere già stati passati per 20.000 mani perché se hanno fatto 20 video a me non mi frega niente di fare il 21esimo devo fare qualcosa di un pochino originale quindi che mi piacciono che siano validi e che abbiano recensito in pochi per me quindi a me li vedete col contagocce ed è per questo che spesso mi capita più quello straniero che quello italiano perché perlomeno in Italia non l'ha fatto nessuno ok invece per quanto riguarda il negozio io dico la mia può dire alla sua Giacomo ci sono non c'è scarsa attenzione qua c'è Calamai c'è Gruppo Ardito Fadars ci sono stati altri microbrand Envision Envision e poi come secondo un blue microbrand ecco secondo Piero un blue è un microbrand è vero era una domanda e no non era una domanda era una domanda poi come vi ho detto l'altra volta non ci riescono ad arrivare i microbrand in una gioia è lì il punto no sì il fatto è che non è perché qualcuno produce un orologio e gli viene questa voglia che poi debba per forza essere preso in considerazione noi facciamo delle valutazioni di cose inserire ovviamente nel nostro negozio come vi abbiamo ripetuto più volte ovviamente devono avere delle caratteristiche devono essere caratteristiche che si differenziano da quello che già il mercato propone cioè aggiungere un altro nome ha già il folto panorama che c'è nel mondo dell'orogeria secondo me ha poco senso allora o mi metti diciamo delle caratteristiche estetiche nuove o delle caratteristiche tecniche o volendo anche tutte e due allora sei degno di essere preso in considerazione ora in questo momento c'è un'attenzione verso i orologi con gli stilemi anni 60 è facile basta mettere i soldi farsi produrre un orologio mettergli un nomino accattivante sopra e ho fatto l'orologio sì potrebbe fare anche Piero per esempio proprio siamo arrivati però poi dopo che cosa hai portato a questo settore qui niente una scena ma nel caso mio dici eh sì nel caso tu durante nero è senza data il GF38 Heritage da 39 e il GF300 da 41 vi faccio vedere quello che abbiamo faccio vedere purtroppo sono tutti con data siamo poveri se abbiamo due ZRC presi a caso sì perché l'abbiamo finiti praticamente durante il periodo natalizio l'azienda riaprirà solo dopo l'epifania sicché non ora se sapessi anche che modelli sono questi sarei contento uno è un Heritage con data però li metto a tirare perché non si capisce non c'è la corona quindi non so qual è il destra e il sinistra capito oh con la destra Pepsi è il nostro Heritage sì è anche carino con questa colorazione qua mentre questo qua a sinistra è il il modello a 41 Grandfond 300 metri 41 che praticamente la differenza qual è che quello a sinistra ha le quelle quei brevetti tipo la fessura qua dove entra l'acqua e pulisce la ghiera no tutte queste cavolatine qua però insomma alla fine della fiera secondo me uno vale l'altro non è che dobbiamo stare a no quello che fa la grossa differenza ovviamente a parte ora il brevetto per la pulizia ovviamente del sottoghiera è il bracciale è nella versione Heritage è molto lamierino è vero è nella versione ovviamente 300 è un pochino più strutturato a me piace di più questo qua è più solido è più solido spesso questo qua invece è più leggero flessibile e più stile vintage eccolo qua c'è a chi piace più questo eh c'è sì e sono anche qua c'è questi agganci qua lo vedete che sono veramente sottili questi qua sì l'altro ha i perni il bracciale del modello Heritage le maglie sono tenute insieme da un sistema di due mezzi tubi che si incastrano uno con l'altro l'abbiamo fatta anche vedere in qualche puntata sì 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 non è che un sistema sia migliore dell'altro dipende tutto dal gusto da cosa si vuole non taglia niente perché sciopero ti fa venire la gente da casa io sciopero è geloso è geloso Carlo Super Carlo quello di prima forse la Jupe Rez eh la Jupe Rez un movimento molto performante che non viene scelto dalle grosse case che vanno avanti a montare gli ormai vecchi tra parentesi affidabili SV200 perché allora la Jupe Rez G100 che poi altri non è che il calibro Citizen Omigota 9000 rivisitato dalla Jupe Re che è in Svizzera quindi è un calibro Swiss made ma di architettura giapponese no? è un bel calibro per l'amor del cielo non è vero che non lo stanno utilizzando perché a me mi sembra che allora i querbo e sovrini ultimamente utilizzano quelli lì non è una grandissima casa di però è una casa importante o anche o le Kenways mi sembra che nell'ultimo orologio hanno cominciato a utilizzare quello lì poi perché tanti continuano a scegliere le sedite SV200 non lo so probabilmente hanno dei contratti hanno delle corsie preferenziali per avere dei calibri su misura come vogliono loro mentre quegli altri può darsi anche che non hanno nemmeno la capacità a Jupe Re di fare un gran numero di calibri come serve a una casa cioè ci sta anche quello poi motivi no diciamo che è un'evoluzione continua il mondo dell'orogeria sta subendo dei cambiamenti drastici sempre più frequenti sicché che cosa è successo in primis l'ETA che ovviamente sappiamo far parte del gruppo Swatch ha deciso di non fornire più meccaniche alle marche fuori dal gruppo o meglio le fornisce ma contingentate faccio un esempio mille meccaniche a casa che cosa succede le case poi crescono e hanno bisogno di avere più fornitura la ETA non gliele fornisce sicché hanno dovuto cercare un altro produttore che gli fornisse una quantità illimitata o adatta alla crescita che volevano fare è per quello che è venuta fuori la sellita cosa succede la sellita ormai che ha raccolto tutte quelle marche che prima si servivano da ETA e io secondo me si parla del 70% del mercato dei produttori di orologi che non hanno una meccanica propria che cosa è successo in questo momento è intasata ha troppi ordini rispetto a quello che riesce a produrre di conseguenza sta chiedendo riordini con un tempo sempre più lungo otto mesi prima un anno prima ovviamente fare dei calcoli di quella che sarà la produzione a distanza di un anno è molto complicato anche perché le case piccole non hanno una gestione delle novità così lunga come hanno le marche più importanti sicché che cosa succede stanno cercando alternative la Juppere è una delle marche che potrebbe dare un'alternativa alla sellita e così andiamo avanti poi nella ricerca sicuramente nei prossimi periodi ne verranno fuori altre che si adatteranno che adatteranno ovviamente la produzione a poter servire quantità adeguate per varie marche di orologi sì poi c'è anche da dire che siccome la Juppere fa parte del gruppo Citizen può essere anche una roba politica che è un Brightling che non vuole andare a rifornirsi da Citizen cioè ci sono tante cose dietro non lo sappiamo Davide ci fareste vedere a confronto i Cap Camaratt da 37 possibilmente nelle colorazioni celeste o bianco altre alternative braccialate su quella fascia di prezzo allora cosa a confronto celeste col bianco cambia il quadrante no altre alternative alternative secondo me è questo qua la fascia di prezzo è questa no sì poco di più l'OIEMA ma insomma ci siamo un'alternativa ora questo qua è il quadrante verde e questo qua sicuramente c'è il quadrante bianco allora c'era tutte le prime colorazioni bianco rosa e azzurro che stanno andando un po' alla produzione intermittenza a volte sono disponibili a volte no le ultime colorazioni inserite sono il verde e il nero quanto è il diametro questo 39 non mi ricordo no è più piccolo se mi sbaglio è un 30 vabbè comunque secondo me l'alternativa del fascia di prezzo con un bracciale integrato stile ci siamo allora 1 2 in alternativa ovviamente il PRX di Tissot che lo stile all'incirca è allineato sì anche il prezzo è lì no sì ah bello Lorenzo De Meglio ciao a tutti da Belluno secondo voi perché le case orologiere non producono più modelli meccanici a carica manuale continuate così siete fortissimi grazie allora l'unica casa che sistematicamente ha in produzione orologia a carica manuale è Hamilton Hamilton gli spara ogni tanto sì c'è tutta una famiglia proprio dedicata poi mi ricordo anche l'altro anno è uscito il Rado Overpool te lo ricordi l'iniezione di vita per il bianco era quello a carica manuale poi veramente per il resto si fatica e ci sono i cronografi Vulcan fa i cronografi sì se no altra geologia carica manuale si fa fatica per esempio la Junganz sul Max Bill sul 34 ha il carica manuale allora diciamo che penso che dipenda molto dai calibri prima venivano molto sviluppati con le meccaniche quelle molto grandi sui 44 45 mm le avevano un pochino tutti in catalogo qualcosa ancora la Hamilton però sono meccaniche molto grandi che poi portano l'orologio a essere fuori da quelli che sono le dimensioni che il mercato sta chiedendo in questa fase qui si perché te stai parlando dell'unitas che era il calibro manuale per eccellenza però il Rado Overpool è 37 mm che sarebbe poi il Powermatic 80 chiamiamolo così senza la parte automatica quindi si può fare solo che probabilmente pensano che l'automatico abbia più successo tra pubblico sicuramente l'automatico è un orologio di stampo più moderno come tipo di alimentazione avendo la massa oscillante caricandosi al polso il prodotto carica manuale è un prodotto più per appassionati più per chi ha ovviamente la voglia di tutti i giorni caricare l'orologio di diciamo creare il rito della carica l'automatico ovviamente avvolge una fascia di clientela molto più ampia chi ga su ga il canale Christopher ciao ragazzi un saluto a tutti voi soprattutto l'amico Piero è possibile vedere al polso il Marine Master 300 grazie un abbraccio no non ho in questo momento Marine Master 300 in stock ho queste versioni qui nuove che erano state fatte che dovevano sostituire un po' il Marine Master 300 hanno però portano delle piccole differenziazioni ovviamente sul tema perché non hanno la cassa monoblocco ma hanno l'apertura che tra l'altro io preferisco però ecco di base hanno sempre la meccanica la 8L35 come era anche il Marine Master mi sembra proprio quello lì azzurro questi qui sono bellissimi il Marine Master secondo me è diventato un orologio un pochino più obsoleto all'interno del del marchio Seiko mantiene sempre il suo fascino però rimane un pochino spesso a causa del monoblocco sicché è un po' da valutare accontentati di questi Andrea ciao ragazzi esiste un cronografo che sia meno spesso dei soliti 15-14 mm sotto i 5.000 euro un saluto all'amico Piero sì che esiste eccolo qua l'ho recensito l'ho anche detto nella recensione questo qua lo Shantigraph di Eberhard cronografo questo qua è spesso 13.5 siamo sotto i 14 è spesso 13.5 perché il suo il motivo è che incassa il calibro modulare formato da un solo tempo con il modulo cronografico quindi non essendo integrato ed essendo la base sullo tempo molto sottile che dovrebbe essere un ETA 2892 o un SELIT SV300 a seconda diventa più sottile 13.5 questo qua è sotto sotto i 5.000 5.000 ci siamo 400 oppure se no bisogna andare a carica manuale non so se aveva specificato automatico no no carica manuale oppure c'è carica manuale della Vulcain che però non mi ricordo quant'è perché ho anche recensito il monopush recensito io ma poco saranno sicuramente sotto qua tanto dello spessore lo fa il vetro vedi come è sporgente poi guarda la carola come è sottile ci sono i cronografi logico che andando ad eliminare già l'orologio con la funzione di cronografo è un orologio doppio come una meccanica doppia già potendo eliminare la massa oscillante che ovviamente deve avere un peso per poter dare la carica all'orologio si risparmia un sacco di millimetri yes Renato da Frosinone ciao al mitico trio è possibile vedere uno Ziodiac ore del mondo grazie mille eh sì ce l'abbiamo abbiamo un po' che tutta la scatola abbiamo già tutta la scatola cosa devo fare? devo fare l'unboxing un unboxing un unboxing in diretta in diretta praticamente sto qua è lo Zodiac ore del mondo che cinturino c'è? c'è un cinturino nato aggiuntivo un po' con la a zigzag si a zigzag è zigzagoso e poi c'è eccolo qua tutto il lavoro mi tocca farla certo e cosa c'ha di particolare questo qua nuovo? la colorazione fondo nero la lunita ovviamente ah blu praticamente io avevo consigliato quello rosso ho recensito quello nero perché io sono molto conservatore no? e avevo consigliato quello rosso ma è arrivato anche quello blu che è simpatico come il sole vero Piero? da morire ah sì? è bello sei un po' polemico è bello è bello il rosso è più bello oppure molto? bello 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 molto bello molto bello molto bello molto bello che strano sto centurino nato ma va bene perché è nato Guglielmo cosa ne pensate del cronograph 1970 Vulcain versione Panda si potrebbe vederlo al polso grazie mille a 1970 io l'aviazione è tutta nera abbiamo già fatto vedere prima io la faccio vedere al polso mentre a disposizione ovviamente in Reverse Panda ho la la versione Mono Pusher eccolo qua praticamente questo qua al polso non è il Panda però è simpatico tutto nero e al polso sta così c'è poco da è un allogio che ha una portabilità eccezionale eh sì eccolo qua poi colori si possono avere tutti ovviamente invece in Reverse Panda si diceva che c'era questo qua che è il Mono Pusher allora Marco è possibile regalare a Piero un Evelen compadrante Tiffany questa è la domanda di Figarda perché non esiste sono finite sono finite e allora non lo vedete 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 io vi sciotero intanto io devo fare sempre la mia domanda curiosa amico Fabio voglio sapere ovviamente come sei appassionato al mondo degli orologi poi ovviamente come hai trovato Davide ma allora in generale gli orologi mi sono sempre piaciuti poi in realtà nello specifico non ne capivo nulla automatico esatto siamo molto amici siamo amici e poi ho avuto diciamo la fortuna nella sfortuna di essere in un periodo abbastanza lungo in ospedale e conoscerlo e tramite il video conoscere appunto poi tutti i modelli ti sei fatto una piccola cultura poi dopo e hai ovviamente incrementato la passione verso il mondo è un bel mondo va bene grande Fabio che è venuto da Venezia Venezia è venuto da Venezia a trovarci ragazzi così Piero fai il giro di qua che facciamo i saluti finali ragazzi il video finisce qua io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e aver guardato il video spero vi sia piaciuti gli orologi che abbiamo fatto vedere l'amico Giacomo l'amico Fabio poi c'è anche Piero manca mingo ma è quello che è è quello niente vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube la iscriviti al canale Grazie a tutti.